Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Una ragazza, un intervento al naso, andato storto e un presunto medico trovato su TikTok. Questa tragedia purtroppo ci porta a parlare oggi di bellezza letale, un documento che analizza i rischi per la salute legati all'uso dei social media e per approfondire questo tema. Oggi con noi c'è Enzi Rossi, psicologa. Buongiorno. Benvenuta a NetTalk. Grazie, grazie per l'invito, un piacere essere qui con voi. Dunque bellezza letale. Un titolo, un titolo forte che immagino non è stato scelto a caso. Assolutamente no, no. Il documento punta il dito su come la ricerca di informazioni su trattamenti, diciamo, estetici e medici sui social possa diventare appunto letale, non solo per i rischi, diciamo, fisici, ma anche per l'impatto psicologico. E qui entra in gioco la sua esperienza, dottoressa. Certo, bellezza letale parla di influencer che promuovono trattamenti senza basi scientifiche. Quanto questo bombardamento di immagini perfetti influenza, secondo lei, la percezione della bellezza soprattutto tra i giovani. L'influenza è enorme, i social media mostrano corpi idealizzati, ritoccati, filtrati e questo crea un modello di bellezza, diciamo così, irraggiungibile, che porta a insicurezze, ansia e in casi estremi a disturbi alimentari o interventi chirurgici non necessari. Bellezza letale cita casi di giovani convinti di dover rifarsi il naso, le labbra, il seno per assomigliare a un filtro di Instagram. Cioè si arriva a pensare che la realtà sia quella distorta dai filtri. Esatto, esatto. E il problema è che sui social la linea tra informazione e pubblicità è sottilissima. Vagia. Bellezza letale riporta l'esempio di questa influencer che sponsorizzava un integratore per dimagrire, millantando risultati miracolosi, peccato che l'integratore fosse privo di qualsiasi validità scientifica. Sì. E avesse anzi degli effetti collaterali anche gravi. E questo ci porta al cuore del problema della disinformazione. Sì. Ma bellezza letale non si ferma qui, vero? No. Si parla anche di dipendenza dai sociali. Certamente il documento evidenzia come la dipendenza dai sociali possa avere un impatto devastante sulla salute mentale e fisica. Ansia sociale, depressione, disturbi del sonno. Ma anche problemi fisici come la sedentarietà. Sono solo alcuni degli effetti negativi. Insomma, un quadro abbastanza preoccupante. E la cosa che mi colpisce è che spesso si pensa che questi problemi riguardino solo gli adolescenti. Bellezza letale invece mostra come la differenza dai social sia trasversale. Sì. E colpisca tutte le età. È vero, bellezza letale riporta dati alarmanti. L'adotto medio trascorre più di due ore al giorno sui social. Due ore al giorno effettivamente è tantissimo tempo. Eh sì, eh sì. Ma cosa spinge le persone a cadere in questa trappola, dottoressa? Ah, le ragioni sono complesse. La ricerca di approvazione, il bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di ricevere commenti positivi. E poi c'è il confronto con gli altri, che sui sociali è amplificato e distorto. Perché ognuno tende a mostrare solo il lato migliore di sé. E questo crea un circolo vizioso da cui è difficile uscire. Un circolo vizioso alimentato in parte anche dalla paura di rimanere esclusi, di perdersi qualcosa. Esattamente, esattamente. Esattamente la cosiddetta fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori. È un'altra delle trappole dei social media. Ci sentiamo obbligati ad essere sempre connessi. Eh sì, a seguire ogni trend, a non perdersi nulla di ciò che succede online anche a costo della nostra salute mentale. È bellezza letale, affronta anche il tema spinoso della perdita della privacy. Sì, è un tema che a volte sembra quasi passato in secondo piano rispetto alla bulimia di contenuti che caratterizza il mondo digitale. È invece fondamentale, sui social condividiamo tantissime informazioni personali. Certo. Spesso senza rendercene conto. E questi dati possono essere utilizzati per scopi che ignoriamo dalla profilazione pubblicitaria al controllo sociale da parte dei datori di lavoro. Ah. Bellezza letale fa un'analisi piuttosto inquietante di come i nostri dati. Ah, e c'è. Anche quelli apparentemente più banali possono essere usati per manipolarci, per influenzarci nelle nostre scelte. A questo punto mi viene da chiedere ma cosa dice la legge in merito a tutto questo? Esiste una normativa che tuteli gli utenti dai rischi legati all'uso dei social media in particolare per quanto riguarda la pubblicità di servizi sanitari. Certo, esistono delle leggi a tutela della salute dei cittadini e del consenso informato. Il problema è che la normativa fa fatica a stare al passo con la velocità di evoluzione del mondo digitale. Esatto. Evidenzia la difficoltà nel distinguere tra informazione e pubblicità. Certo. Soprattutto quando si parla di influencer marketing. Ecco, gli influencer spesso sono loro il tramite tra i prodotti e i consumatori. Esatto. Anche nel campo della salute e della bellezza. E questo, come sottolina bellezza letale, apre una serie di questioni etiche molto delicate. Assolutamente. Gli influencer spesso non hanno le competenze per dare consigli su temi così delicati come la salute. Io, eppure milioni di persone si affidano le loro parole, alle loro recensioni, ai loro consigli. Bellezza letale riporta casi di persone che hanno subito danni anche gravi a causa di trattamenti estetici o diete consigliati da influencer senza alcuna qualificazione in materia. Insomma, o andro piuttosto complesso. Eh sì. Da un lato i social media offrono in dubbi vantaggi in termini di comunicazione, di condivisione, di accesso alle informazioni. Sì. Dall'altro lato però ci espongono una serie di rischi che non possiamo ignorare. Esatto. La chiave sta nella consapevolezza. Eh già. Dobbiamo imparare a usare i social media in modo critico e responsabile. Certo. Senza farci dominare da essi. E questo vale per tutti, non solo per i più giovani. Sì. Anzi, fossi gli adulti, con la loro esperienza e il loro senso critico. Eh sì. Dovrebbero dare l'esempio. Concordo. È importante educare noi stessi e le generazioni future a un uso consapevole dei social media. Eh già. A distinguere le fonti affidabili da quelle che non lo sono. A non credere a tutto ciò che si vede online. E a proposito di consapevolezza, bellezza letale, offre degli spunti interessanti. Grazie. Anche per quanto riguarda la tutela della nostra privacy. Sì. Il documento suggerisce alcune strategie concrete per proteggere i nostri dati personali online. Ah. Ad esempio, impostare la privacy dei nostri profili social in modo da limitare l'accesso alle nostre informazioni. Certo. Evitare di condividere dati sensibili online. Per attenzione ai permessi che concediamo alle app che scarichiamo sui nostri dispositivi. Quindi non si tratta di demonizzare i social media, ma di imparare a usarli in modo intelligente, consapevole e responsabile. Esattamente. I social media sono uno strumento e come tutti gli strumenti possono essere usati bene o male. Eh già. Dipende da noi. E a proposito di responsabilità, vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con una domanda rivolta a tutti voi che ci ascoltate. C'è. Bellezza letale. Ci mette di fronte a un dilemma. Sì. Come conciliare il desiderio di bellezza, che è naturale e positivo, con la consapevolezza dei rischi che si scelano dietro all'uso superficiale dei social media. Bella domanda. Credo che la chiave stia nel trovare un equilibrio tra l'accettazione di sé e il desiderio di migliorarsi. Sì. Senza cadere nella trappola della perfezione a tutti i costi. Eh già. Imparare ad amarsi per quello che si è, senza inseguire modelli irraggiungibili. Sì. Per vivere serenamente il rapporto con la propria immagine e con i social media. Un messaggio importante che speriamo arrivi a tutti. Te. Menzi, grazie per essere stata con noi a NetTalk. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Grazie per aver ascoltato NetTalk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio, dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro.